vi faccio vedere questa edera che praticamente è secca perché ho tagliato la base l'anno scorso ma vedete come continua a strozzare la pianta questa è una verdacchia molto alta adesso la pulisco che vedete tutto intorno l'edera che si ambarbica e praticamente fa morire la pianta vi faccio vedere la pulizia di questa edera che ormai è secca e poi come vedete visto anche dando un taglio di ritorno vi faccio vedere il risultato l'edera comunque è sempre da togliere sulle piante